Lezione 181. Qual è la chiave della felicità? Ehi Anna, qual è la chiave della felicità? Beh, questa è una domanda complicata, vero? Sì, credo di sì. Ma sono davvero curiosa. Cosa rende felici le persone? Beh, penso che cose diverse rendano felici persone diverse. Ma so una cosa per certo. Che cos'è quello? I soldi non possono comprare la felicità. Ne sei sicuro? Voglio dire, può comprare molte cose che rendono felici le persone. Sì, ma queste cose sono temporanee. La vera felicità viene dall'interno, non dai beni materiali. Em, mi stai facendo riflettere. Forse dovrei iniziare a concentrarmi sulla felicità interiore. Sicuramente. E sai come si dice, la felicità è contagiosa. Diffondi la gioia. Hai ragione. Diffondiamo un po' di felicità. Sembra un piano. Lezione 182. Com'è il tuo nuovo appartamento? Ehi Anna, com'è il tuo nuovo appartamento? È fantastico, John. Finalmente sento di avere il mio spazio. È fantastico. Qual è la cosa che preferisci? Sicuramente le grandi finestre che lasciano entrare tanta luce naturale. Oh, quindi sei finalmente in grado di vedere tutta la polvere che si è accumulata? Ehi, guardatelo! Ma seriamente, è stato così bello svegliarsi con la luce naturale invece del bagliore del mio telefono? Sì, posso immaginarlo. E scommetto che ti piace avere una cucina tutta tua, vero? Assolutamente. Sto preparando una tempesta. Praticamente sono uno chef stellato Michelin ora. Beh, in tal caso, dovrò venire a mangiare da me qualche volta. Sei sempre il benvenuto, John. Basta non aspettarti decorazioni fantasiose o altro. Non preoccuparti, Anna. Sono qui solo per mangiare. Lezione 183. Hai mai notato che tutto arriva in coppia? Ehi, Anna, hai mai notato che tutto è in coppia? Cosa intendi? Beh, pensaci bene. Due occhi, due orecchie, due mani, due piedi. Anche i nostri polmoni e i nostri reni sono in coppia. Sì, è vero. Ma perché è divertente? Non lo so, è divertente per me che tutto sembri andare in due. È come se l'universo avesse un debole per la simmetria. Credo di sì. Ma non si tratta solo del nostro corpo. Ci sono molte cose che arrivano in coppia, come scarpe, guanti, orecchini e persino calzini. Giusto. E non dimenticare sale e pepe, burro di arachidi e gelatina e Batman e Robin. Ok, ora stai solo facendo lo sciocco. Non posso farci niente. Il numero due è così divertente per me. Beh, devo ammetterlo, c'è qualcosa di soddisfacente nelle cose che arrivano in coppia. Sembra proprio giusto. Esattamente. È come se fossimo fatti per avere due di tutto. Penso che tu stia esagerando, John. Forse hai ragione. Ma ei, almeno possiamo apprezzare le piccole cose della vita, giusto? Suppongo di sì. A patto che non inizi a contare tutto in due. Lezione 184. Com'è stato il tuo primo giorno di scuola? È stato un po' travolgente. Ho così tante nuove classi e insegnanti da ricordare. Non preoccuparti, Anna. Sono sicuro che lo imparerai in pochissimo tempo. Me lo auguro. Ma adesso mi sento come un cucciolo smarrito. Beh, ho una soluzione per te. Fai finta di essere un agente segreto in una missione top secret. Devi raccogliere informazioni da tutte le tue classi e tornare al quartier generale. È una soluzione piuttosto creativa, John. E rende la scuola molto più eccitante, non credi? Sì, credo di sì. E se mi beccano? Questo è il rischio che corri come agente segreto, Anna. Ma ricordati che se vieni scoperto, nega tutto. Non credo sia un buon consiglio, John. Ok, va bene. Basta attenersi alle nozioni di base. Presta attenzione in classe, prendi appunti e non dimenticare di portare il pranzo. Grazie, John. Questo è un consiglio molto più pratico. Quando vuoi, Anna. Ricorda solo che non sei solo. Siamo tutti insieme in questa missione di agenti segreti. Lezione 185. Hai mai pensato di sposarti un giorno? Ehi, Anna. Hai mai pensato di sposarti un giorno? Sì, l'ho fatto. Ma trovare la persona giusta sembra un compito arduo. So cosa intendi. Ma ho una soluzione per questo. Oh, davvero? Qual è la tua soluzione? Dovremmo semplicemente creare un'app di appuntamenti per persone pigre. Invece di scorrere verso sinistra o destra, è sufficiente fare clic su un pulsante che dice sì, sono interessato o no, non sono interessato. In realtà è una buona idea. Ma come potremmo trarne profitto? Facile. Addebitiamo le persone per il pulsante sì e regaliamo il pulsante no gratuitamente. Non credo che funzioni così, John. Ehi, vale la pena provare. E chissà, forse saremo la prossima grande novità nel mondo degli appuntamenti. Ne dubito, ma è un pensiero divertente. Sì, ma in tutta serietà, penso che trovare la persona giusta richieda tempo e impegno. Ma alla fine ne vale la pena. Sono d'accordo e speriamo di trovare entrambi la persona giusta un giorno. Non ho dubbi al riguardo, Anna. Non ci resta che continuare a scorrere. Intendo fare clic sul pulsante sì. Lezione 186. Hai parlato con qualche vecchio amico ultimamente? Ehi, Anna. Hai parlato con qualche vecchio amico ultimamente? A dire il vero, ora che me ne parli, sono anni che non parlo con la mia migliore amica delle elementari. Beh, dovresti chiamarla. Resta aggiornato sui vecchi tempi. Non lo so, John. E se non si ricorda di me? Dille solo chi sei. E se ancora non ricorda, fingi di essere qualcun altro. È un pessimo consiglio, John. Ok, ok. Ho un'idea migliore. Quando risponde al telefono, basta dire, sono io, la tua compagna di classe preferita. In questo modo, saprà esattamente chi sei. È un po' scadente, ma mi piace. Ehi, a volte deve essere un po' banale per far sorridere qualcuno. Hai ragione, John. Le farò subito una telefonata. Buona fortuna, Anna. E ricorda, se tutto il resto fallisce, fingi di essere un parente perduto da tempo. Lezione 187. Hai fatto qualche viaggio ultimamente? Ehi, Anna, hai fatto qualche viaggio ultimamente? Sì, sono andata alle Hawaii il mese scorso. Hawaii? Sembra incredibile. Com'è andata? Diciamo solo che non è andata esattamente come previsto. Cosa è successo? Beh, tanto per cominciare, il mio volo è stato ritardato di sei ore. E quando finalmente sono arrivato alle Hawaii, ha piovuto tutto il tempo. Questo è un peccato. Almeno sei riuscito a fare delle cose divertenti? Non proprio. L'unica cosa che ho fatto è stata visitare una piantagione di ananas. E anche questo è stato un po' deludente. Una piantagione di ananas? Non sembra la cosa più eccitante. Sì, me ne parli. Ma la parte migliore è stata quando la guida turistica ha detto, ecco da dove vengono gli ananas. E volevo solo rispondere, assolutamente no, pensavo venissero dal supermercato. Divertente, Anna. Almeno hai un buon senso dell'umorismo a riguardo. Sì, devi trovare l'umorismo in situazioni come queste. Beh, sono sicuro che il tuo prossimo viaggio sarà molto migliore. Lo spero, John. Me lo auguro. Lezione 188. Ti senti mai come se avessi bisogno di più nella vita? Anna, ti senti mai come se avessi bisogno di più nella vita? Cosa ancora? Solo. Di più. Più emozione, più avventura, più soddisfazione. Em, penso che tutti si sentano così ad un certo punto. Ma cosa intendi nello specifico? Non lo so, sento che nella vita ci deve essere qualcosa di più della solita routine quotidiana. Capisco cosa stai dicendo. Ma a volte sono le piccole cose che possono rendere la vita più eccitante. Tipo cosa? Come provare un nuovo ristorante o esplorare un nuovo quartiere. O anche solo provare un nuovo hobby o attività. Sì, immagino tu abbia ragione. Ma a volte mi sembra di aver bisogno di qualcosa di più grande, qualcosa di più significativo. Beh, hai mai pensato di fare volontariato o di impegnarti in una causa che ti appassiona? È comprensibile, ma non devi fare qualcosa di enorme per fare la differenza. Anche piccoli atti di gentilezza possono avere un grande impatto. Sai una cosa, Anna? Hai ragione. Forse devo solo concentrarmi sul fare di più bene nel mondo. È un'ottima mentalità da avere, John. E chissà, forse porterà ad alcune emozionanti avventure lungo la strada. Mi piace il suono che suona. Usciamo e facciamo più bene al mondo, Anna. Sono d'accordo, John. Rendiamo il mondo un posto migliore, un piccolo atto alla volta. Lezione 189. Ti ricordi la prima volta che sei andato in bici? Ehi, Anna, ti ricordi la prima volta che sei andata in bici? Sì, lo so. All'inizio ero così nervoso, ma poi è stato molto divertente. Ricordo la prima volta che andai in bicicletta. Facevo schifo in quello. Sono caduto tante volte. Sì, all'inizio può essere dura. Ma una volta che ci si abitua, è una sensazione fantastica. Sicuramente. Ma ti ricordi la prima volta che hai provato a guidare un monociclo? Non ho mai guidato un monociclo, John. Davvero? Pensavo che tutti l'avessero provato almeno una volta. No, non l'ho nemmeno mai provato. Beh, non ti manca molto. È molto più difficile che andare in bicicletta. Posso solo immaginare. Ma seriamente, è sempre divertente provare cose nuove, anche se è solo qualcosa di piccolo come andare in monociclo. Sono d'accordo. È importante uscire dalla propria zona di comfort e provare qualcosa di nuovo di tanto in tanto. Forse la prossima volta possiamo provare entrambi a guidare un monociclo insieme. Oh cavolo! Dovrebbe essere interessante. Lezione 190 Hai mai indossato occhiali da vista? Ehi Anna, hai mai indossato occhiali da vista? Sì, l'ho fatto. Perché me lo chiedi? Beh, stavo pensando di comprarne un po'. Pensi che facciano sembrare le persone più intelligenti? Questo non lo so, John. Penso che dipenda dalla persona che li indossa. Sì, immagino tu abbia ragione. Ma ho sempre pensato che facessero sembrare le persone più sofisticate. Forse è perché li associ a professori o bibliotecari. Sì, è vero. Ma che dire di quelle persone che indossano quelle montature grandi e spesse? Non pensi che siano un po' nerd? Penso che tutto dipenda dallo stile personale, John. Alcune persone possono togliere le cornici spesse e farle sembrare alla moda. Sì, suppongo che tu abbia ragione. Forse dovrò provare alcuni stili diversi e vedere quali sono adatti a me. E chissà, magari ti faranno sembrare anche più intelligente. Ehi, accetterò tutto l'aiuto possibile in quel reparto. Lezione 191. Hai perso qualcosa? Ehi, Anna, hai mai perso qualcosa e hai passato ore a cercarlo, solo per trovarlo davanti a te? Sì, penso che ci siamo stati tutti. L'ho fatto solo la settimana scorsa. Ho perso il telefono e ho distrutto l'intero appartamento cercando di trovarlo, solo per rendermi conto che era sempre in tasca. È successo anche a me. È come se il nostro cervello assumesse automaticamente che si trova da qualche altra parte. Esattamente. E a volte, quando finalmente trovi quello che stavi cercando, ti senti un po' stupido. Sì, ma è sempre un sollievo trovarlo finalmente, non importa quanto ti senta stupido. Ed è ancora peggio quando cerchi qualcosa che è proprio davanti a te, ma semplicemente non lo vedi. So cosa intendi. A volte mi sembra che il mio cervello si spenga quando cerco qualcosa. È come se dovessimo tornare all'asilo e giocare a iSpy per affinare le nostre capacità di osservazione. Ehi, forse non è una cattiva idea. Potrebbe essere un modo divertente per trovare oggetti smarriti. Sì, e potremmo anche farne un gioco. iSpy, l'edizione Lost and Found. Ora hai capito qualcosa, John. Iniziamo una nuova tendenza. Lezione 192. Hai mai regalato qualcosa gratis? Ehi, Anna, hai mai regalato qualcosa gratis? Sì, l'ho fatto. Perché me lo chiedi? Beh, stavo pensando di regalare alcuni dei miei vecchi vestiti, ma non sono sicuro che qualcuno li voglia. Non si sa mai, John. La spazzatura di un uomo è il tesoro di un altro. Me lo auguro. E se regalassi qualcosa che qualcuno non vuole? Quindi possono sempre usarlo come straccio o donarlo in beneficenza. Questo è vero. E se regalassi qualcosa di veramente prezioso per sbaglio? Allora potresti avere qualche rimpianto, John. Immagino che dovrò solo stare attento a ciò che regalo. Ma sarebbe bello regalare qualcosa gratis a qualcuno e migliorargli la giornata. Lo sarebbe. Inoltre, è sempre bene riordinare ed eliminare le cose che non ti servono. Sì, e forse riceverò un buon karma in cambio. O almeno, un armadio più pulito. Lezione 193. Sei mai tornato nella casa della tua infanzia? Ehi Anna, sei mai tornata nella casa della tua infanzia dopo molti anni? Sì, l'ho fatto. È sempre interessante vedere come sono cambiate le cose. Sto pensando di farlo presto. Mi chiedo se sarà tutto uguale. Beh, odio dovertelo dire, John, ma probabilmente le cose non saranno esattamente come le ricordi. Sì, lo so. Ma posso sempre sperare in un po' di nostalgia. Questo è vero. E chissà, forse troverai dei tesori nascosti che hai dimenticato. Sarebbe bello. Ma sono un po' preoccupata all'idea di imbattermi in alcuni vecchi vicini e di non riconoscerli. Fai finta di ricordarli e sperare che non facciano troppe domande specifiche. Buon piano. E forse riuscirò anche a rivivere alcuni vecchi ricordi. Questo è lo spirito, John. Basta non perdersi troppo nel passato. Nessuna promessa, Anna. Nessuna promessa. Lezione 194. Ti sei mai fermato a pensare al senso della vita? Ehi Anna, ti sei mai fermata a pensare al senso della vita? Sì, l'ho fatto. Ma a volte penso che sia meglio non pensarci troppo. So cosa intendi. Può diventare piuttosto profondo e travolgente. Inoltre, la vita è già abbastanza complicata così com'è. Non c'è bisogno di aumentare la confusione. Questo è vero. Ma non ti chiedi mai qual è il nostro scopo su questo pianeta? Beh, John, penso che il nostro scopo sia mangiare pizza e divertirci. Mi piace il tuo modo di pensare, Anna. Ma seriamente, penso che il nostro scopo sia semplicemente quello di goderci la vita e sfruttare al massimo il nostro tempo qui. Sì, hai ragione. La vita è breve, quindi dobbiamo concentrarci sulle cose che ci rendono felici. Esattamente. E se tutto il resto fallisce, ricorda, la risata è la migliore medicina. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ridiamo a modo nostro nella vita. Lezione 195 Hai mai pensato di avere figli? Ehi, Anna, hai mai pensato di avere figli? Sì, l'ho fatto. Ma non sono sicuro di essere pronto per quel tipo di responsabilità. So cosa intendi. Ma pensate a tutta la gioia e le risate che portano nella nostra vita. Questo è vero. Ma portano anche molto caos e disordine. Sì, l'ho sentito dire. Ma pensa a tutti i momenti carini e divertenti a cui potremmo assistere. Questo è vero. E se si rivelassero dei piccoli mostri? Allora non ci resta che investire in alcune buone tecniche di modifica del comportamento. Mi piace il tuo modo di pensare, John. Inoltre, pensa a tutti i giocattoli con cui potremmo giocare. Non stai rendendo le cose più facili, John. Scusa, Anna. Penso solo che sarebbe un'avventura divertente. Sì, hai ragione. Sarebbe sicuramente un'avventura. Ma credo che continuerò a fare la zia per ora. Fai come te, Anna. Altri giocattoli per me. Lezione 196. Ti senti stressato al lavoro ultimamente? Ehi, Anna, ti senti stressata al lavoro ultimamente? Sì, la pressione è stata piuttosto intensa. Non sono sicuro per quanto tempo ancora posso tenere il passo. So cosa intendi. Ma sai come si dice, quando la vita ti dà limoni, prepara una limonata. È facile per te dirlo, John. Non devi avere a che fare con il mio capo con il fiato sul collo. Vero, ma ho una soluzione per te. Hai provato a immaginare il tuo capo con un vestito divertente? Cosa intendi? Come immaginarlo con un costume da clown o un tutu. È difficile prendere sul serio qualcuno quando lo immagini con un vestito ridicolo. Non so se sarebbe d'aiuto, ma vale la pena provare. Fidati di me, funziona. E se non funziona, puoi sempre provare a nasconderti nell'armadio delle provviste per qualche minuto. Non credo che andrebbe bene con il mio capo. Vero, ma potrebbe valerne la pena per qualche minuto di pace e tranquillità. Sai una cosa, John? Potresti aver capito qualcosa? Vedi, sapevo di poter aiutare. Ricorda solo che quando le cose si fanno difficili, i duri diventano stupidi. Lezione 197. Il mio computer si è appena bloccato. Ehi, Anna, cosa c'è che non va? Sembri frustrato. Il mio computer si è appena bloccato, e ho perso tutto il mio lavoro. Beh, almeno hai una scusa per fare una pausa e giocare al solitario. Sì, sono sicuro che il mio capo apprezzerebbe questa scusa. Oppure puoi sempre dare la colpa a un virus. Queste cose sono subdole. Non credo che il mio capo comprerebbe nemmeno quello. Sì, probabilmente hai ragione. Ma il lato positivo è che almeno puoi cogliere l'occasione per prendere una tazza di caffè e rilassarti per un minuto. Hai ragione, John. A volte è bene fare una pausa e schiarirsi le idee. Esattamente. E chissà, forse il tuo computer aveva solo bisogno di un pisolino. Non credo che la tecnologia funzioni così, John. Ehi, non si sa mai. Potrebbe essere una nuova funzionalità nel prossimo aggiornamento. Ne dubito, ma è una bella idea. Vedi, sapevo di poterti tirare su di morale. Ora andiamo a prendere quel caffè. Lezione 198. Hai provato quel nuovo ristorante di sushi? Anna, hai provato quel nuovo ristorante di sushi in fondo alla strada? No, non l'ho fatto. È buono? Oh cavolo, è incredibile. Ho mangiato il sushi roll più delizioso che abbia mai assaggiato. Davvero? Cosa c'era dentro? Beh, si chiamava firecracker roll. C'era tempura di gamberetti, avocado, maionese piccante e un ingrediente segreto che non riesco a capire bene. Un ingrediente segreto? Forse ci hanno messo un po' di magia o qualcosa del genere. Sì, deve essere così. Dovrò provarlo di persona e vedere se riesco ad assaporare la magia. Fidati di me, Anna. Non rimarrai deluso. In effetti, sto già programmando la mia prossima visita lì. Lezione 199 Mio zio pazzo Anna, ti ho mai parlato di mio zio pazzo che pensa di essere un pirata? Cosa? Un pirata? Sì, indossa un completo costume da pirata, completo di benda sull'occhio e pappagallo sulla spalla. È esilarante. Crede davvero di essere un pirata? Non ne sono sicuro, ma si comporta sicuramente come tale. Parla con un buffo accento pirata e ha persino una nave pirata nel suo cortile. Wow, è un bel personaggio. Hai mai fatto un'avventura pirata con lui? In realtà, l'ho fatto. Ha portato me e i miei cugini a fare una caccia al tesoro nel suo cortile. È stato così sciocco, ma ci siamo divertiti tantissimo. Sembra molto divertente. Devi invitarmi la prossima volta. Ehi amico! Siate i benvenuti a unirvi alla nostra ciurma di pirati nella prossima caccia al tesoro. Lezione 200. Vuoi uscire a cena stasera? Ehi Anna, vuoi uscire a cena stasera? Certo, sembra un'ottima idea. Dove vuoi andare? Che ne dici di quel nuovo locale italiano che ha appena aperto in fondo alla strada? Ho sentito che hanno ottimi piatti di pasta. Oh, volevo provare quel posto. Ma non possiamo solo mangiare pasta, dobbiamo anche mangiare dessert. Sono d'accordo cosa hai in mente per il dessert? Emh, che ne dici di una torta al cioccolato e lava da condividere? È il mio punto debole. Ah, quindi hai un debole per i dolci, eh? Non posso farci niente. Il cioccolato è semplicemente troppo buono. Va bene, ma dobbiamo assicurarci di risparmiare spazio sufficiente per la pasta. Non possiamo lasciare che il dessert prenda il sopravvento sulla nostra cena. Non preoccuparti, farò in modo di risparmiare spazio per il piatto principale. Andiamo a concederci dei carboidrati e del cioccolato. Benvenuto a iscriverti al nostro canale. Inoltre, supportiamo più lingue dagli altri nostri canali.